DMP-SRL, dispositivi di protezione individuale. La società produce e distribuisce attrezzature per sollevamento, movimentazione e tesatura di linee elettriche quali funi in acciaio e nylon, calze, giunti fissi e girevoli, presse e pompe idrauliche, morsetti autoserranti, ponzonatrici, tagliacavi manuali e idraulici, tiranti in fune e a catena, argani a fune passante, carrucole di rinvio SB, paranchi manuali a catena, alleva, a fune, elettrici, catene, carrelli e pinze porta paranchi, sollevatori magnetici, dinamometri elettronici.